Il silenzio delle stelle Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G Entità Tommaso Desidero spendere qualche parola sui sogni e sulle varie metodologie degli studi che si sono svolti e che si stanno svolgendo al riguardo. Anche a tale proposito, gli addetti ai lavori sono stati solleciti ad approntare apparecchiature metodiche di controllo, incasellando freneticamente milioni di dati e disquisendo su complicati diagrammi, su onde alfa, su onde beta, ecc. Non ho niente da obiettare sulla sete di sapere dell'essere umano. Non sono un persecutore della scienza e del suo approfondimento nelle varie branche. Non disconosco l'utilità dei tracciati encefalografici, dal momento che realmente in stato di sonno si verificano notevoli variazioni di ritmo a livello cerebrale, ma ritengo fuorviante confondere il sonno con il sogno e sostenere la convinzione che quest'ultimo sia esclusivamente correlato al primo. Avete mai sentito parlare di sogni ad occhi aperti? Di solito questa espressione viene gettata là, come un modo di dire ma in realtà. Vi è mai accaduto, per esempio, di stare fra la gente senza uirla? Di camminare su una qualsiasi strada senza rendervene conto? Per poi improvvisamente risvegliarvi con la netta sensazione di essere stati assenti, magari soltanto per pochi attimi? Se in quegli istanti il vostro cervello fosse stato collegato agli elettrodi di questa o quella apparecchiatura, ne avrebbero avuto gli scienziati di sorprese. Voi tutti dovreste imparare a discernere le semplici elucubrazioni mentali dal vissuto spirituale che siete abituati a classificare sotto la medesima etichetta. Le elucubrazioni mentali non sono che le pallide e spesso distorte tracce di eventi che magari, nella giornata appena trascorsa, vi hanno particolarmente colpito. Sono perciò semplici elaborazioni della vostra psiche ed è errato crederle sogni. I veri sogni sono ben altro. Sono, a dispetto del nome che si attribuisce loro, autentiche trasposizioni in altre dimensioni. Sono incontri del vostro spirito con altri spiriti ancora incarnati o disincarnati. Sono il riaffiorare di ricordi di vissuti precedenti. Sono molto spesso sprazzi di precognizione e rivelazioni di quella realtà che vi attende, la realtà dalla quale siete partiti e alla quale ritornerete più coscienti. Continua. Grazie. Grazie. Grazie.